Abbiamo fatto un gran bel acquisto, una bella costruzione. Mani, ma stasera vieni, c'è il dietro. Non c'entra qui, non c'entra qui. trattorie del bordo. Il giro del turre in un anno. Mi sa che sei fuori. No, no, ancora? Ma che fa? Basta che non gli ha dato a Michael non cade mai. Tanto guarda un po', non sta più cadendo. Non mi ha dato. bella questa bello gesto di stirza gesto di stirza ora è voluto ufficiale è bellissimo ora si ora è voluto perché cosa è successo ora si eccoci Grazie. 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 Questo è distrista. Questo è distrista. Ma io voglio la sfonda. Ma io voglio la sfonda. Grazie. 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 Grazie.